Noi stiamo mettendo in piedi numerose iniziative open come questa e in ogni caso anche le iniziative in cui non c'è una apertura a tutti. Per i minori è sempre garantito un accesso diretto anche senza prenotazione. Devo anche dire che noi tranquillamente iscriviamo in piattaforma anche soggetti che non si siano già iscritti per cui mettiamo le persone nella condizione migliore per poter essere direttamente vaccinati. Quindi ripeto i minori, gli ultraottandenni, pochi che sono rimasti, possono accedere direttamente ai nostri centri vaccinali anche senza prenotazione. Noi provvederemo a vaccinarli. Oggi la giornata di Open Day prevedeva 250 dosi di vaccino. Da questa mattina purtroppo non c'è stato un afflusso o quantomeno non c'è stato l'afflusso che si sperava di ottenere. Ritiene che questo sia da leggere perché le persone veramente non vogliono vaccinarsi o perché la quota che è rimasta è davvero minima. Lei parlava di un 70% di vaccinati quindi bisogna intercettare e capire chi ha la volontà di volerlo fare. Questo sicuramente. Devo anche dire che le belle giornate non invogliano le persone a dedicarsi a questa necessità. In particolare poi siccome l'iniziativa era riservata soprattutto ai giovani e ai minorenni in previsione dell'apertura delle scuole ovviamente. Presumo che quella fascia d'età sia quella meno sensibile a questa necessità e in questo periodo preferiscono sicuramente frequentare altri liti. Queste iniziative però rimarranno in piedi anche nei prossimi giorni per cui invito tutti assolutamente ad aderire e a cercare di essere massicciamente presenti quando vengono organizzate queste iniziative. Dottore molti genitori dicono no al vaccino ai figli soprattutto se siamo nella fascia degli over 12 un po' a salire su. Molti hanno resistenze. Parlano più di effetti collaterali che di benefici. Lei che cosa sente di dire? Ma io francamente i numeri sono assolutamente confortanti nel senso che le eventuali reazioni avverse sono trascurabili numeri statisticamente per cui ora è anche vero che nelle persone giovani diciamo l'infezione può incenere si manifesta con una scarsa sintomatologia difficilmente da luogo a una patologia importante clinicamente. Ma è altrettanto vero però che un soggetto giovane positivo può infettare persone più anziani, persone portatori di patologie che possono diciamo invece risentire gravemente dell'eventuale contagio. Grazie. 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 Grazie.